Franco rimani fuori. Calcio di punizione batte Riccardo Del Bello sul pallone, forse l'ultima azione di questa gara, l'ultima azione siamo ai sgoccioli del secondo tempo, siamo in vantaggio per 4 a 2. 4 a 2, c'è Riccardo che rimette la palla al centro, fuori, si è mangiato proprio un gol il capitano Lorenzo Cuniberti, ecco l'arbitro decreta la fine dell'incontro, andate a salutare, e dopo pure il pubblico. Gratulazioni, ecco andate a salutare i compagni, pitbull, organizza una ola dopo, aspetta, organizza una ola, aspetta, vi devo prendere. Ok, organizzate una ola, altre scattate, altre scattate, altre, 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 uno, due, tre. Vittoriosi, giovanissimi nella loro prima gara di campionato del girone Chiti della categoria, giovanissimi. 4 a 2, è terminato l'incontro, ah la bandierina, ok. A posto, a posto, alla prossima. Adesso ci saranno gli allenamenti degli allievi di mister Gabriele Di Felice. Ok, bravo mister. Ah, è puricare, ecco. Grazie. 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 Grazie.